Ben tornati ragazzi in questo nuovo video, continuiamo Lego Harry Potter anni 5 e 7 Andiamo avanti con Hermione Ehm... prendiamo una bomba... no, oddio cos'è? Che cosa è? Ah ma bisogna penderla qui... Porca miseria... Ah è una... ah... per spaccare... ma pensate... Cosa si inventano? Ok ragazzi... Ultima... Missione... Dei Doni della Morte parte 1 Quindi siamo ormai alla... dobbiamo andare al castello dei Malfoy E qui abbiamo i Ghermidori Bellissima anche questa scena Qui Rono viene catturato E qui Hermione colpisce Harry in faccia Per non far cattare... qui abbiamo Bella... oddio... Qui abbiamo Bellatrix, Lucius, Narcissa, Draco, Codalicia anche Qui abbiamo la spada... che è una cosa complicata... Qui loro sono sotto... Qui loro sono sotto... E pego Luna... Il signor... oddio... Ollivander e Unci Unci Folletto... Unci Unci è veramente fatto male Invece... Ah... Ok siamo qua sotto... Cosa dobbiamo fare... Non mi ricordo... Allora intanto prendiamo gli occhialini... Ho detto... Cosa... Ah... Ah è vero che non abbiamo le bacchette... Quindi non possiamo fare niente di niente... Oddio Harry Potter che monta con le mani... Che brutto... Ron però c'è sempre il suo deluminatore naturalmente... E lo mettiamo qua... Ok... Qui abbiamo un bel gelatino... Che non si sa dove dobbiamo metterlo... Benissimo... Qui, 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 qui... Ah abbiamo la chiave... Bene... Bastava fare così... E qui cosa abbiamo? Ho... Il nostro calderone che montiamo per la prima volta a mano... Ah e Luna c'ha... Il nostro ingrediente... Primo... Perché mi pare di aver già visto dove sono i ragni... Qui... Oddio... Una bella monetina... Ah... Guardate qua... C'è già un altro ingrediente... L'ho visto... Che sono i nostri fiorellini... No... Ok... Vediamo un po' qua... Ah ma qui dobbiamo montare allora... Cosa montiamo? Un essere vivente... Una libellula... No... Una mosca... Ok... Arriva il ragno... E se la mangia... Esclode... Escono un mucchio di ragni... Compreso un ragno rosso... Pensate un po'... Ok... Qui mettiamo questa bella pozione... E facciamo saltare in aria il muro... Ah... Pure... Parliamo anche il serpentese... Ok... Verde... Blu... Rosso... E giallo... Verde... Blu... Rosso... E giallo... Cosa ci fa montare? Uno specchio... Ah... E qui abbiamo... Alberfort... Silente... Che manda Dobby... Tenetevi pure... E li portano a... Una gabbia... No... A una casa... E qui vediamo... Con Alicia... Che... Non so se è morto... Qui... Chi ha preso la mia spada dalla mia camera blindata? E qui... Che colpisce Lucius... Ecco... C'è il combattimento... Ok... Ragazzi... Io combatto contro 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 contro... Contro... Draco... Mamma mia ragazzi... Era da un po' che non si vedevano dei combattimenti... Sono anche un po' più difficili... Cioè... Devi schiacciare molto di più rispetto ai primi... Qui anche Draco che sa usare concentrazione... Ok... Qui usiamo Reducto... Mamma mia... Qui il nostro incantesimo di base... Mamma mia... Ah... E qui abbiamo Bellatrix che ci lancia le cose... Perché il boss finale è Bellatrix... Come potete vedere... E ogni tanto c'è anche un paio di Mangiamorte che cerca di ucciderci... Ma non è un problema... Perché noi siamo più forti... Es... Pam... Ora combattiamo invece contro Narcissa... Ok... Meno uno... Meno due... Meno due... Mamma mia che belli questi combattimenti... Meno tre... E... Meno due... Mamma mia che belli questi combattimenti... Meno tre... Lo scontro con Bellatrix... Lo scontro con Bellatrix... Ok... Vai Ron... Cioè vai Harry... Qui bella Trips... Stordita... Che se ne va... Su... Aia... Ok... Qui dobbiamo aspettare... Eccola lì la cassa... Ok... Una in faccia a Marpoi... E l'altra in faccia a Narcissa... E... Boss Level... Parti sotto... Ah no... Bisogna usare Redutto... Mamma mia... Guardate... Meno una vita... Meno due vite... Aia... Mamma mia... Meno tre... E... Voglio provare ad attaccarla un po' così... Vediamo cosa succede... Niente... Ah... Ma è colpito eh... E... Benissimo ragazzi... E qui abbiamo... Dobby... Meccanico... Che smonta il lampadario... E qui vediamo... Che li porta via... E lei lancia in verità un coltello... Però qua è un pesce... Perché non possono naturalmente... Fare vedere... Certe cose in Jotilego... No... 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 Qualcosa riescono a fare la tomba... con la bandiera di un calzino... E qui vediamo che Dobby è morto Ok ragazzi livello completato Gioco libero sbloccato Ok totale gettoni Il nostro fantastico mattoncino d'oro E ok abbiamo quindi Concluso I doni della Marte parte 1 Vi lascio al prossimo video Dove vediamo l'ultimo filmato Spero che questo video vi sia piaciuto Al prossimo video